Esercizio situazionale che parte con uno contro uno dorsale con gol in porticina per poi diventare un due contro uno in costruzione dal basso partendo dal portiera e infine con la partenza di un uomo con un passaggio al compagno diventa un tre contro uno con grande superiorità numerica per stimolare il gioco col compagno. Grazie 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 a tutti.